Domenica si vota per l'Europa, è importante votare per l'Europa per cambiare quell'Europa di oggi, per dare all'Europa la possibilità di essere di nuovo quell'Europa del lavoro, l'Europa delle politiche sociali, l'Europa che propone l'uguaglianza e l'avanzamento delle condizioni dei paesi. E proprio per questo non bisogna pensare che basta dire meno Europa oppure non andare al voto, invece bisogna votare e scegliere, qualificare le istituzioni e scegliere quei programmi che hanno appunto in mente che l'Europa del welfare e l'Europa del lavoro sia l'Europa importante. Decidere di un'Europa che cambia e di un'Europa che ha istituzioni democratiche, votate e partecipate dai cittadini e decidere di un futuro positivo possibile, in assenza dei quali invece saremmo più in difficoltà, più in difficoltà a uscire dalla crisi, più in difficoltà a creare politiche di sviluppo, più in difficoltà a creare lavoro. Per questo noi pensiamo che domenica sia necessario, sia sostanzialmente un dovere andare a votare per scegliere l'Europa del lavoro.